La musica deriva da un insieme di suoni ribaditi in un livello composto dalle mani Che battono il tempo, che ripetono il conto, che possono parlare con il solo movimento delle dita Facendo i segni con le mosse delle dita, accendi e spegni i conti numeri e batti producendo rumori Boom, legati, legati da fili conduttori, allora mi do parole per otto suoni e frasi per rumori forti Che superano la base fatta solo da voci di quattro amici, fatta solo dalle voci dei miei quattro amici Comunica, emozioni